Buongiorno a tutti Buongiorno 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Goal. 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 Grazie a tutti. 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 Sì, 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 sì. Noi, noi, noi. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Ehi, 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 ehi. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. 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 Ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. 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 Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.